Eccoce l'entrata in campo, incontro di calcio del campionato di seconda categoria, Virtus Castelfrentano, Fossacessia 90, la Virtus Castelfrentano giocherà con la maglia bianca con i svolti giallorossi, mentre con nero-azzurro con bordo rosso il Fossacessia 90. Adesso c'è lo schieramento per il saluto al pubblico. Eccoci al solteggio. Forza ragazzi. Ecco ragazzi, venite qua ragazzi. Ecco fra pochi istanti inizierà la gara, qua c'è la gioventù castellina. Ecco fra pochi istanti inizierà la gara, qua c'è l'entrata 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 inizierà la gara, qua c'è